Abbiamo fatto un grande passo avanti della partita di Carpi, anche se ho visto già delle cose importanti con la partita col Carpi. Ho avuto riscontro domenica da Vellino, che a oggi poteva sembrare scontata magari fare il risultato, ma non era così. Venivamo da una situazione molto difficile a livello mentale. La squadra ha fatto veramente una grande partita e meritavamo di vincerla. Da questo ci dobbiamo costruire qualcosa di importante per questo finale di campionato, perché è stata una partita che ci ha dimostrato che se facciamo le cose che dobbiamo fare siamo una buona squadra. Se guardiamo i numeri, incontriamo la squadra più forte di questo campionato senza ombra di dubbio. È una squadra forte, che secondo me è la squadra che gioca meglio al calcio in Serie B. E quindi ci attende domani, è una partita molto difficile. E quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo raddoppiare le forze. Quella è la prima cosa, non dare la profondità a Donnarumma e Caputo è fondamentale, ma non solo per loro, ma anche per gli inserimenti dei centrocampisti, che sono molto bravi. Quindi dobbiamo stare attenti anche agli inserimenti. Detto questo, perché se no parliamo solo dell'Empoli, ci sarà il Pescara in campo che cercherà di fare la partita, cercherà di migliorare la prestazione di Avellino e cercherà di essere un Pescara Coriaceo che ha voglia di fare risultati e ha voglia di tirarsi fuori il più presto possibile da questa situazione. Ma Cini, cosa puoi e deve migliorare? Per me non è un oggetto misterioso. Quando sono arrivato io, l'ho visto allenare, non lo conoscevo come giocatore e l'ho messo subito in campo perché secondo me ha delle doti tecniche importanti. È logico che deve migliorare la fase di non possesso, perché lui fondamentalmente è un trequartista, e quindi un trequartista a poca fase difensiva, fase di non possesso. Ci sto lavorando, il ragazzo si sta applicando molto ed è un giocatore che negli ultimi 30 metri di campo è un giocatore importante. Mi auguro che domani, l'ho detto già domenica dopo la partita, che il dodicesimo in campo sia il pubblico perché ne abbiamo bisogno, ma non lo dico per ruffianarmi i tifosi del Pescara, perché sento i ragazzi che ne hanno bisogno più che mai, perché i tifosi sono importantissimi domani, ma ci devono dare una mano perché domani, specialmente dall'inizio, abbiamo bisogno di loro che ci danno carica.